Nel magico, misterioso e segreto introterra dell'animo di ciascuno di noi, esistono luoghi ideali attraversati da un perdurante stupore che vince qualsiasi mortificazione che il tempo, l'isolamento e l'oblio può produrre. Ma introterra può essere per un artista anche il racconto lirico del suo cercare lo spazio, il ritmo, la luce, i colori, i toni e le emozioni per poter comunicare le figure, i suoni, le visioni, gli oracoli, le verità e gli arrischianti pensieri del suo fare artistico. Il mix di questi due concetti di entroterra produce un'esplosione di immagini che noi chiamiamo opera d'arte e che vorremmo appendere in uno spazio paradossale che fosse sempre in vista e sempre presente alla nostra attenzione e alla nostra perdurante ammirazione. Credo che i quattro villini ruggeri dipinti con la tecnica dell'acquarello da Franco Fiorucci siano il punto d'incontro ed arrivo di questi due concetti di entroterra e che la provocazione poetica e visionaria che i quattro suscitano è una sorta di osservazione sincera e puntuale al fondo della memoria e della solitudine che sa ritrovare nelle forme lineamenti e sentimenti mai prima elaborati. Le parole e i segni si sa dicono cose, comunicano immagini, propongono attimi, suggeriscono trascendenze, pausano atmosfera prima che noi si venga risucchiati dall'esigente e potente banalità del vivere, sono proprio queste le pause intermittenti che costituiscono la confortante possibilità di un'ulteriore privata formazione emotiva e culturale. guardiamoli a lungo questi meravigliosi e travolgenti acquarelli di Franco Fiorucci ispirati al vilino Liberty fortissimamente voluto da Oreste Ruggeri il re dei glomeruli nel 1902 e terminato poi nel 1907 godiamo intensamente della loro presenza in immagine qui cercando nel loro magico accordo tra finito e infinito tra verità ed emozione fra realtà e sogno di sollecitare e ripristinare tutti quei circuiti mentali destinati alle astrazioni e ai voli della fantasia che l'imperante cultura del supermercato fa quotidianamente svaporare. Facciamo tesoro di questo istante di eternità perché la visibilità è uno dei rituali che celebra l'arte e cerchiamo di decifrare e decriptare queste immagini conturbanti che si nutrono di vento, di luce, di spazio dove regna la metamorfosi e dove la bellezza crea isole bianche d'aria per colori furtivi che si imbizzarriscono come per una ridda improvvisa di maghe e di tritoni. Malvelino Ruggeri non era il simbolo fiorito di una casa dove le fate giocavano con tutti i nostri sogni? Sì, ma prima di Fiorucci, con assoluta libertà di fantasia, concentrazione emotiva, rigore tecnico, pienezza, consistenza e sapienza materica, con penetrazione di nessi creativi fino alla divinazione, Franco Fiorucci ha stravolto le atmosfere. Ha mutato gli enigmi, ha approfondito i segreti, ha sostituito il climax, ha accolto il pensiero dell'uomo tragico che ineluttabilmente deve fare i conti con il proprio destino. Il vento del tempo soffia prepotente, drammatizzando le strutture di Breghe e di Ruggeri, tutte ricci, volute e sensualità. Innervosisce gli alberi, rende minacciosa la torretta cuspidata, abrade le avverandine e le paraste, scivola sul tetto a pagoda, allunga le tamerici in tentacoli spinti verso nuvole gialli di passaggio. Le finestre chiuse mantengono segreti, le ringhiere decorate dei balconi deserti filtrano sibili, la cancellata Liberty, le colonne e il muretto a basso rilievo hanno dimenticato la presenza dei bambini ruggeri dai nomi esotici. Non c'è più nessuno. La guerra, i tedeschi d'occupazione, i militari alleati, gli sfollati, hanno violato i sogni. L'ambizione colta di Oreste Ruggeri, la stellare capacità disegnativa di Giuseppe Brega, lo stupore orgoglioso ed emozionato dei capimastri e degli operai che hanno costruito il villino si avvertono ancora appena, risucchiati dalla loro lontananza, come fa l'ombra che vibra tra l'occhio e l'oggetto, come fa il pensiero che naviga tra la storia e la cronaca. Nonostante la quotidiana presenza del villino nella vita di tutti noi pesaresi fino a diventare immagine feriale, è come se, attraverso queste quattro opere di Fiorucci, affiorasse da una mente rosa dalle abitudini l'esaltante sorpresa di nuova consistenza, di nuova magia, di inattesa conturbante bellezza. Un angolo di Pesaro concreto, ormai storicizzato, costruito proprio in riva al mare, come cosa per stupire e per lasciare memoria di sé e del suo padrone, diventa altro da sé, per inverare oggi il raggiungimento di una nuova capacità di orientamento nella direzione dell'interpretazione artistica. Luogo di elezione, di ispirazione, di creatività espressiva in cui confluiscono e convergono le trame di una radicata presenza e di una nuova essenza. dove colori, spazio, uso della prospettiva, tratteggio delle forme, a stanza, allusioni, illusioni, turbamenti, hanno annullato il lato oscuro della sua effazione, come succede nella morte, per riaffermare il trionfo, la gloria e la pienezza di una nuova incarnazione. Perché l'artista ha la responsabilità immensa di avere nelle proprie mani l'universo e di essere in grado di rinnovarne bellezza e seduzione, palpiti e speranze, perché i segni e le parole che sono della stessa sostanza sanno e possono esprimere il valore fondativo delle cose e mutarlo in idee, emozioni, sentimenti e immagini nuove che gli uomini chiamano opera d'arte. Da un fondale chiaroscurale e cangiante, da un'atmosfera ventosa e drammatica che accoglie il pensiero dell'uomo tragico, dai bruni nodosi degli alberi, dai ciuffi irrequieti di fronde, di siepi e di nuvole, si impone la struttura Liberty del villino Ruggeri, dissolta la levità capricciosa dello stile di riferimento, la villa ora canta un canto mai udito che sa di vaticini, di tempeste, di solitudine e di muti e contraddittori richiami. Colori insospettati l'avvolgono, sono i rossi cupi dell'autunno, i gialli balenanti dei lampi, rari, i rosa in secondo piano, pausato e insinuante l'azzurro come il mare, l'aria e i sogni che testardamente cantano in ogni momento la varietà dei pensieri e la multiforme possibilità della lirica speranza. Le quattro splendide e travolgenti immagini del villino Ruggeri sono proprio l'entroterra conturbante dove si nasconde e si rivela l'estro, il talento, il respiro e l'antidoto al senso dell'uomo tragico che si annida nella personalità artistica di Franco Fiorucci. È la reazione sulla disperazione e sulla sconfitta. È la vittoria della ragione e del sentimento sulla cieca e fatale sopraffazione del destino. È il trionfo dei talenti, rivelazione di lucidità e vertigine che sono le due polarità tra le quali è tesa la sua poetica. Per prodigio artistico un monumento liberty del novecento pesarese diventa rete di segni evocativi che fanno baluginare le pozze dell'irrazionale del pensiero magico delle apparizioni insolite che popolano i sogni ma è anche il filtro che rischiara lo sguardo tramutando l'eleganza in ipotesi di sentimento rimanendo però in relazione con ciò che accade nell'inconscio del suo autore accostando superbamente la realtà del villino alla propria visione interpretativa la forma esistente con quella chimerica che aspira all'immaginario metafisico franco lo aveva già fatto con quelle case di campagna abbandonate tra i dirupi del suo adorato appennino quelle case gridavano ancora la tenerezza dei ricordi e la fatica della sopravvivenza quei rosa e quei rossi tenaci dei mattoni e degli intonaci mantenevano il rosa e i rossi della carne dei bambini e delle donne anche in quelle opere il vento abrasivo del tempo non era riuscito a togliere del tutto il valore di quelle presenze ma la natura abbandonata intanto si era vendicata infittendo rovi allungando sterpi intrecciando rami e ingigantendo radici ma il villino pur in pieno centro cittadino è abbandonato dagli eredi del fantasioso multiforme Oreste per quasi tutto l'anno all'ammirazione turistica agli sguardi curiosi degli stranieri e a quelli innamorati di alcuni nostalgici pesaresi nelle piccole stanze interne nelle scale fiorite nei balconi e nel giardino non ci sono più bambini che giocano solo vento e sassedine lambiscono fregi maioliche e tamerici se la vita quotidiana è cessato ha preso forma però la vita immaginaria della creazione artistica in piazzale della libertà a due passi dal mare nell'atmosfera traslucida dei meriggi ventosi della stagione di mezzo con strani riverberi di luce il vilino di Ruggeri ha ripreso a vivere una vita nuova travolgendo il passato imponendo con orgoglio la propria bellezza di manufatto libertì rivendicando il suo potere evocativo suggerendo emozioni arricchendo ipotesi dissipando così quel velo prepotente d'oblio che la fatica del vivere è solita stendere su tutte le cose di l'anima Grazie a tutti.